Per scheletri I nostri amici sono fichissimi Ah si perchè ho fatto anche la... Ho fatto diventare magico anche il mio cane Adesso anche lui ne crea Comunque è fichissima sta cosa Cioè è molto meglio del mag di PSO Il mag del PSO in confronto non faceva un cazzo